Tutti gli scenari economici e politici in questo approfondimento sulle fonti tv, mentre sta partendo di fatto la nuova legislatura con i primi step, l'elezione del Presidente del Senato, quello della Camera che ci sarà venerdì, il Senato dovrebbe essere Ignazio e la Russa, ci saranno tre votazioni nella giornata di oggi e poi invece la Presidenza della Camera dei Deputati dovrebbe andare alla Lega. Naturalmente sono tutte manovre che porteranno poi alla formazione del Governo, ci saranno Propedeuti che poi ha la formazione del nuovo Governo con la Premier Impactore Giorgia Meloni. Parleremo di questo ma parleremo ancora una volta di quello, perché leghiamo tutto anche alla formazione del nuovo Governo, di quello che si aspetta il nuovo esecutivo e di quello che dovrà farsi carico il nuovo esecutivo con la crisi, anzi le stime ancora in peggioramento che parlano di una recessione, arriva dal Fondo Monetario Internazionale questa voce per il prossimo anno, per il 2023, non solo per l'Italia, l'Italia è in pole position ma insomma anche la Germania, anche la Cina, anche l'America, insomma un rallentamento dell'economia a livello globale. Quindi gli aiuti al Paese e ai Paesi sono necessari perché noi facciamo fatica a pagare le bollette, tutto aumenta per l'inflazione, ma come si fa con il debito e poi il conflitto Russia-Ocraina che continua a rimanere e a permanere? Questo sicuramente non alleggerisce la situazione. Saluto Gian Maria De Francesco, Vice Caposervizio Economia del Giornale, che ritrovo con molto piacere, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Immagino che questa sia un po' la scaletta che segui anche tu ogni giorno, no? Dico bene? Fondamentalmente sì perché diciamo che fino a quando non si formerà il nuovo governo è chiaro che si resterà sui temi generali che riguardano la messa a punta di una legge di bilancio che parte già in salita purtroppo. Esatto. Infatti allora facciamo così, partiamo proprio dal nuovo governo al via parte la diciannovesima legislatura. Ammesso che tutto vada liscio, cosa intendo dire? Ammesso che si trovino effettivamente gli accordi per non perdere tempo perché non ce lo possiamo permettere e perché ovviamente se ci fossero già, sto scoprendo l'acqua calda, mi rendo conto, però insomma partiamo da qui, se ci fossero già degli attriti, insomma, viste le sfide che il governo deve affrontare si partirebbe già col piede assolutamente sbagliato, no? Beh è una questione di narrazione effettivamente. Effettivamente il centrodestra sta portando avanti un tipo di comunicazione molto molto soft, anche perché non è il caso di mettere il piede sull'acceleratore in una situazione nella quale già dall'anno prossimo potremmo avere a che fare con una recessione, atteso il fatto che secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale e anche della Banca d'Italia che oggi le pubblicherà, incontreremo sicuramente una recessione tecnica perché il trimestre appena trascorso dovrebbe essere caratterizzato da un andamento negativo, così come quello che stiamo attraversando dovrebbe essere negativo anch'esso e così pure il primo trimestre del 2023. Questo poi ci porterà ad avere un effetto di trascinamento sull'anno prossimo sostanzialmente nullo o leggermente positivo, il che vuol dire che il 2023 parte male e rischia di concludersi alla stessa maniera se non ci sarà una ripresa che è collegata all'abbassamento dei prezzi energetici l'anno prossimo. Certo. Allora, leghiamo appunto la formazione del nuovo governo a un po' la panoramica anche che ci ha dato, la fotografia che ci ha dato il Fondo Monetario Internazionale, l'abbiamo già detto, cioè ha parlato di recessione in Italia, non solo in Italia ma noi parliamo del nostro paese nel 2023, quanto ti spaventa da osservatore politico e giornalista chiaramente e poi parliamo anche di quanto può spaventare a livello più pratico per i cittadini, insomma questo avviso, tutto starà, te la metto in questi due aspetti, a quanto riuscirà a fare veramente in brevissimo tempo il nuovo governo o la narrazione, lo hai detto tu prima, ormai è già scritta in parte, quindi non si potrà prescindere da questa situazione anche perché poi non conta solo il governo, lo sappiamo c'è tutto il tema geopolitico che la fa un po' da padrone. Purtroppo temo che almeno inizialmente possa fare poco, anche per i tempi ristretti che ci sono per la scrittura della legge di bilancio stessa, infatti l'attuale esecutivo in carica, cioè quello Draghi, l'altro ieri, anzi tre giorni fa ormai ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio a legislazione vigente, su quello si innesterà la legge di bilancio stessa, ma i provvedimenti di spesa non potranno grossomodo modificare di molto quello che è il quadro macroeconomico tendenziale. Certo, col programmatico soprattutto per quest'anno magari ci potrebbe essere la disponibilità di una decina di miliardi in più, che mi pare che Giorgia Meloni, il presidente di Fratelli d'Italia e Premier Impactor, possiamo dire così, abbia l'intenzione di utilizzare quella minima disponibilità per i sussidi contro il caro energia, soprattutto per i redditi più bassi, che poi è il suggerimento che dava lo stesso Fondo Monetario Internazionale. Se mi è consentito dire una cosa, credo che questo orientamento sia in qualche misura obbligato, fra virgolette, perché stiamo assistendo a un pesante short sulla Gran Bretagna, che pur non avendo fondamentali drammatici, ha mostrato con il governo Truss di voler andare controcorrente. Quindi se già un paese che è messo con i fondamentali meglio dell'Italia, viene bastonato, anche questo, fra virgolette, dal mercato, allora è chiaro che Meloni, avendo esperienza politica, sa già che non potrà fare molto di diverso. Certo. Dovrà un po' seguire la scia, dici tu? Eh, non potrà sicuramente fare voli pindarici, diciamo così, perché... Ha un po' le mani legate, diciamoci la verità, ecco. Eh, sì, purtroppo sì. Quindi c'è spazio per nuovi interventi sul caro bollette, un po' di taglio del cuneo fiscale, e poi, insomma, e poi, diciamo, l'indicizzazione delle pensioni è già prenotata dall'esecutivo in corso, è con la piramide demografica invertita che abbiamo, andare a toccare il capitolo pensioni significa già partire col piede sbagliato perché ti alienerebbe la simpatia di una fetta consistente dell'elettorato, senza contare che questo governo già parte con una... dovendosi confrontare con un atteggiamento molto critico da parte dell'establishment. Ecco, a questo punto ti propongo il titolo successivo perché poi hai già toccato, insomma, alcuni punti che ci portano a ragionare su quelli che dovranno essere gli interventi anche per gli aiuti alle famiglie, alle imprese che, insomma, già da mesi soffrono e questo ci ha già causato un... come dire, una fetta di mercato mancata perché molte aziende hanno chiuso, hanno ridotto la produzione, insomma, la sappiamo, la situazione economica qual è, però aiuti al Paese necessari ma senza debiti. Come fare? Si parla molto di ricorrere allo scostamento di bilancio, però sarebbe ovviamente una politica in deficit, questo andrebbe aumentare il nostro debito pubblico già elevato, però, insomma, se non si fa questo, com'è possibile recuperare le risorse? Cosa ti aspetti? Bisognerà necessariamente fare debito? Questo ce lo potranno dire solo... Certo, lo so, mi rendo conto. No, è perché sarebbe veramente avere la sfera di cristallo. Cercherò di essere dettagliato perché è un quadro tecnico che hanno prospettato alcuni analisti, oltre che alcuni dirigenti d'azienda. Quello che noi vediamo adesso è una situazione drammatica ma che ancora non si è esplicata nella sua pienezza. Si esplicherà a partire dal primo gennaio 2023. Perché? Perché scadono contratti di acquisto gas a prezzi, diciamo, 2020-inizio 2021 e entrano in vigore, ma in realtà, diciamo, iniziano a diventare validi contratti di acquisto gas sui prezzi attuali. Quindi, imprese, famiglie si troveranno ad avere a che fare con costi del gas che saranno raddoppiati rispetto alla situazione dell'inizio di quest'anno e non ci sarà un paracadute. Allora, non si può dire adesso quale sarà la decisione che sarà appresa. Se l'Unione Europea trova l'accordo per il famoso shore dedicato all'energia, tanto di guadagnato. Se non si trova, allora bisognerà intervenire con lo scostamento di bilancio perché quei prezzi saranno insostenibili. però, tu dici, non è ancora detto, cioè perché qualcuno sostiene che appunto per la situazione in cui siamo, visto che si parla di recessione, tutto sarà necessario. No, dipenderà molto anche dalla finanziaria che deve essere messa appunto anche abbastanza in fretta, no? Infatti non a caso di solito non si va mai a votare in autunno, però quest'anno è stato necessario e quindi vedremo cosa succederà, no? Ma sì, cioè il discorso sul caro energia in legge di bilancio potrà avere uno spazio più o meno limitato, secondo me perché quegli interventi andranno nel decreto collegato perché ci sono alcuni sussidi in scadenza, i primi sono quelli sulla benzina che scadono scadono questa domenica, poi certo basta un decreto ministeriale per prorogarli, però è il caso di mettere a punto anche per i mesi che verranno tutta la prosecuzione del taglio di accise e del taglio dell'IVA. E fatto quello poi resta veramente poco, come dicevo prima. L'unica cosa che vorrei aggiungere è che se l'Italia comunque fosse costretta allo scostamento di bilancio e questo non rientrasse in un'azione coordinata a livello europeo, come è stato nel caso della pandemia da Covid-19, questo vorrebbe dire che fondamentalmente ci troveremmo ad avere a che fare anche con l'Unione Europea che sta implodendo. Questa bella implodendo perché dici questo? Perché se uno va a leggere attentamente quelli che sono i suggerimenti del Fondo Monetario Internazionale, il primo consiglio che dà è il modello tedesco fondamentalmente, dove dice che si devono attuare politiche di sostegno, in riferimento ai prezzi energetici, laddove ci sia il fiscal buffer, cosa che la Germania ha ampiamente, infatti si è potuta permettere di spendere 200 miliardi. L'Italia il fiscal buffer non ce l'ha, come non ce l'ha la Spagna, la Francia sta esaurendo le cartucce anche lei, perché ha il debito che va verso quota 115% del PIL, noi siamo già a 150, però come dire… Diciamo che ci sta rincorrendo, dai diciamo così, appunto, si fa molto presto a raggiungersi. Sperando che noi non aumentiamo ulteriormente, però insomma diciamo che sono situazioni allarmanti, quello sicuramente. E quindi se non c'è, come dire, un'azione mirata, integrata, allora vuol dire che tutti saranno orientati su chi può, utilizza le risorse, chi non può. E chi non può. Sì, 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 ma l'implosione di cui parli tu, io ti ho chiesto specifica perché è un po' la situazione, insomma, di cui abbiamo spesso parlato, cioè della non unità dell'Europa. Proprio la settimana scorsa mi è stato chiesto un commento sulle decisioni che appunto l'Europa sta prendendo per contrastare l'azione di Putin e con il presidente Charles Michel che ha detto dobbiamo continuare così con l'unità che ci sta caratterizzando e io mi sono permessa di dire che questa unità non ce la vedo, insomma, ed è quello che hai detto tu, ma semplicemente perché abbiamo delle situazioni diverse da paese a paese, a livello economico abbiamo sempre parlato di una Europa a tante velocità e il problema è che poi non si è mai riusciti a raggiungere, non dico un'unica velocità perché forse quello sarebbe un po' improbabile, però quantomeno trovare accordi un po' più mirati o un po' più incisivi. Senti, a questo proposito mi viene da chiederti, prima di salutarti, cosa ne pensi delle nuove minacce di Putin che non sono nuove ma insomma sono reiterate perché di fatto si continua a fare questo sull'energia, lui dice il rifornimento dell'energia continuerò a darlo se non verrà messo il price cap e anche qui, ultimo titolo, grazie regia, anche qui in qualche modo si collega al discorso che stavamo facendo, cioè ci sono paesi come Germania e Olanda che sono favorevoli al tetto e allo stock comuni, altri ci stanno ancora pensando, insomma l'Europa deve raggiungere un accordo in qualche modo, però questo potrebbe causare appunto ritorsioni da parte della Russia. Io personalmente ho una posizione abbastanza, non dico scettica, direi agnostica sul tema del price cap, perché come accade in altri ambiti, l'esempio più comune e che viene più facile per gli ascoltatori è sicuramente quello dello scudo antispread della BCE, quello che ancora non abbiamo potuto vedere. Allora, diciamo, al di là delle condizionalità che ci saranno, si entrerà in funzione nel momento in cui si vedrà che gli spread, nel qual caso sono i più sottotiro, sono i nostri BTP, arrivano a un livello tale da non rendere più efficace la politica monetaria della BCE. Ma qual è questo livello? Oggi siamo intorno a quota 240, 250 sono le oscillazioni degli ultimi giorni. Qual è il livello? 300, 350, 400? Cioè il mercato potrebbe anche essere tentato dall'idea di andare a vedere fin dove si può spingere, di modo che da riguadagnare nel momento in cui la BCE andrà a coprire. E intanto, come dire, short ai BTP. Lo stesso vale per il gas. Allora, andiamo a testare il price cap, cioè nessuno compra a un determinato prezzo, il gas non arriva, vediamo che cosa succede, se si accetta. E questo ipotetico price cap, che dovrebbe essere definito come un corridoio con una banda di oscillazione 5-10%, dice andiamo a testare, ovviamente l'operatore di mercato può fare questo tipo di ragionamento, andiamo a testare cosa succede con prezzi superiori alla banda di oscillazioni. Il meccanismo, così come strutturato, prevede che si possa anche per ragioni di emergenza derogare e quindi potrà capitare che il price cap si riveli inefficace in alcuni casi. Per questo ho un atteggiamento agnostico. Ok, ok, no no, ti sei spiegato molto bene, ma quindi se dovessi riprendere l'ultima parte del titolo, Scenari per l'inverno, che inverno ci aspetta secondo te? Sarà difficile, io concordo con le attese e gli auspici dell'amministratore delegato di Eni Descalzi che ha detto speriamo di arrivare a febbraio in buone condizioni, arrivati a febbraio, considerato che l'Italia non è poi un paese così freddo, almeno il 2023 sarà più o meno tranquillo, fino ai prossimi 12 mesi, cioè fino a ottobre-novembre 2023 e lì potrebbe essere la tragedia. Per il breve termine, la speranza è di arrivare all'inizio dell'anno prossimo a zoppati ma non morti. Ok, va bene, l'hai detto in modo molto netto, ma ci sta, è inutile girarci intorno, voglio dire, perché la situazione è questa. Allora, io ringrazio Gian Maria Di Francesco, Vice Capo Servizio Economia del Giornale, ti seguiamo naturalmente sul giornale e su tutti i tuoi canali, insomma, ha cercato sempre molto interessanti gli approfondimenti che Gian Maria fa ogni giorno e presto ci ritroveremo anche qui, ti ringrazio per la collaborazione. Grazie, grazie a voi. Grazie.